Buongiorno, buongiorno, buongiorno dalla vostra Eli, che coraggiosamente ha deciso di fare il video dei prodotti finiti beauty. Coraggiosamente perché nella mia camera hobby ci sono 38 gradi e non ho il condizionatore, ma non c'è nessun altro posto in cui vi possa fare il video. Oggi è domenica pomeriggio e ho deciso di farlo oggi perché la settimana prossima sarà l'ultima settimana che lavoro prima di andare in campeggio con i ragazzi e non avrò tempo di fare altri video perché dobbiamo andare a preparare un po' di cose e poi devo preparare le cose anche io per partire. Al lavoro sarò impegnata per chiudere la contabilità prima di andare via appunto questa settimana e quindi oggi o mai più, prendetemi così come sono. Nature senza trucco e senza inganno ma fa veramente troppo troppo caldo. Come state? Spero che stiate tutti bene, che con questo caldo comunque riusciate a fare il minimo indispensabile per sopravvivere. Io faccio così, ma veniamo subito ai video dei prodotti finiti beauty. Così svuoto il bagno che ha, sono forse due mesi che non lo faccio ma ho veramente tantissima cosa, quindi prendetevi un bel tè freddo oppure acqua e menta, acqua e limone, succo di limone, un bel succo di frutta. Allora rilassatevi in mia compagnia se vi faccio rilassare oppure se non vi piace dite ok, cambio canale, che è meglio così. Ebbene, che cosa abbiamo finito? Pesco a random perché non ho preparato nulla, tiro fuori direttamente dal mio scrigno e vediamo che cosa abbiamo finito. Questi fazzolettini che ho trovato, questi penso siano della Sien, aspettate, sì li ho comprati alla Lidl perché c'è scritto qua. Mi sono trovata bene, li trovo della qualità molto simile a quelli che trovo al Tigotà, era una confezione di tre confezioni. Questa l'ho finita, una ce l'ho in utilizzo e l'altra è ancora in scorta. Due o tre veli, molto buone, molto resistenti, io li tengo in bagno per qualsiasi necessità, vanno benissimo. Poi, questo è ancora pieno e non serve. Finiti questi dischetti di Avilea, i quadrotti struccanti mi piacciono sempre, sono sempre molto molto buoni. Spero di farlo veloce perché tante cose comunque le avete già viste. E poi avevo trovato in sconto sempre al Tigotà questi 50 dischetti di cotoneve che sono davvero molto molto buoni. Quando li trovo in sconto li compro sempre perché sono belli spessi, non si sfaldano, trattengono bene il tonico o comunque l'acqua micellare per struccare, sono molto molto buoni. Quindi quando sono in sconto comunque utilizzo questo. Avevo messo anche una borsettina, non so più dove l'ho messa, fa niente, oggi così. Finita acqua micellare della Garnier Skin Active, strucca, deterge, illumina e uniforma alla vitamina C, questa è una delle mie preferite. A parte il profumo agrumato che ha, si sente anche adesso che è finita, un profumo molto molto fresco e strucca bene. Io è il primo anno che durante l'estate non mi trucco, così non ho nulla sulla faccia. Ho fatto la mia skin care stamattina, stasera la rifarò dopo aver fatto la doccia, ma devo dire che serve fare skin care bene tutto l'anno perché poi quando si arriva nel periodo, per me almeno, più caldo dell'estate, tutto quello che ho fatto durante l'anno viene fuori. Ho una pelle che non si irrita, che è benidratata, nonostante il caldo davvero micidiale di questi giorni, a parte i due giorni che ha fatto dei temporaloni pazzeschi, con qualche danno, ma fortunatamente non troppo. E il fatto di fare skin care bene per tutto l'anno, applicando tutti i prodotti giusti, devo dire che dà veramente i suoi frutti, soprattutto quando non hai voglia di fare skin care perché alla sera muori dal caldo in bagno, perché il bagno è da parte alla camera hobby e anche lì ci sono 38 gradi. E niente, questa sì, la compro e la ricompro, la ricomprerò sicuramente perché mi piace tantissimo. Poi ho finito questa crema corpo, questo fluido corpo all'Argan di Yves Rocher, vi devo dire che tutte le cose che sto provando di Yves Rocher mi piacciono tantissimo, è vero, hanno un costo leggermente più elevato del low cost, ma sono di una ottima qualità. Questo era un latte corpo detergente, una body lotion all'olio di Argan e ai petri di rosa, è proprio molto molto buona. Io l'ho finita, il profumo è delizioso, vi lascia la pelle molto morbida, profumata ma non troppo idratata, quindi questa era una mini size che non ricordo più da dove arrivi, ma ottimo ottimo prodotto. Quando avrò finito le mie scorte che sono innumerevoli perché ho deciso di non comprare più nulla, perché ho davvero tante cose e le voglio finire, le voglio terminare, sicuramente sarà un prodotto che potrei ricomprare. Ho finito questo bagno schiuma della Sien che era quello che era uscito in primavera della linea lavanda, mi è piaciuto soprattutto perché l'ho trovato molto molto delicato, l'ha usato anche il capitano ovvero il signor Mauri perché adesso quando entra in doccia mi dice che cosa devo usare, ci sono qua troppe cose, dimmi cosa devo usare che io lo uso e allora gli dico questo, 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 questo e questo. Questo l'ha usato anche lui, a parte la battuta ma è veramente così nella mia doccia, è un profumo alla lavanda molto delicato, molto terapeutico e fa una schiuma leggera, non troppo ingombrante, non troppo schiumosa, lava bene e lascia la pelle profumata, quindi se dovesse uscire ancora alla Lidl questa linea alla lavanda la prenderò sicuramente, mi è piaciuta. Come mi è piaciuto tantissimo e anche questo con l'aiuto di Mr. Mauri l'abbiamo finito, questo doccia gel al, aspettate, no, questo l'avevo comprato in un kit, tutte le altre cose non le ho ancora terminate, che ho comprato al DM di Balea, al, vedo neanche cosa c'è scritto, fa niente, al chai, al limone, alla cannella e al tè chai, potrebbe essere così? Comunque era buonissimo, allora per l'estate secondo me non particolarmente indicato, perché ha un profumo alvolgente di latte, profumato alla cannella di scorza di limone, un profumo molto autunnale, molto invernale ma piacevolissimo sulla pelle, davvero molto molto piacevole e anche questo è finito. Poi, ho finito questa saponetta di Perlie al Vetiver, mi piacciono molto queste saponette, io le trovo al tigota, le trovo molto spesso in sconto e questo mi fa venire in mente che ho finito anche tutti i miei saponi e dovrei ricominciare a fare i saponi, ha una schiuma voluttuosa, è molto cremoso, molto morbido, mi piace davvero tanto e questi ne ho un po' in scorta, perché quando ci sono gli sconti li compro sempre. Poi, finito il mio struccante per occhi delicati della Garnier di Skin Active all'estratto di uva, ottimo, 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 a me strucca tutto il trucco che ho sugli occhi, non uso quasi mai trucco waterproof, ma devo dire che questo è al momento quello che mi piace di più dei struccanti occhi che ho provato, perché non è oleoso, strucca bene, è delicato, non fa bruciare gli occhi, un prodotto ottimo e io ve lo consiglio se avete gli occhi delicati come i miei. Poi, finito questo termoprotettore della Nivea per i capelli, l'abbiamo utilizzato sia io che Lucia, ci siamo trovati bene, sempre utilizziamo un termoprotettore, perché io avendo i capelli decolorati e comunque Lucia ha un capello molto grosso, molto corposo, molto riccio, che quando poi si appesantisce, quando cresce si appesantisce e ha bisogno comunque di un termoprotettore che aiuti a, mentre si asciuga i capelli, che sono una massa veramente grossissima, di avere un prodotto che protegga appunto i capelli dal calore del phon. Con questo ci siamo trovate bene e non escludo di ricomprarlo. Adesso ne ho due o tre in uso di Balea, con i quali mi sto trovando benissimo e anche Lucia, ma questo è un buon prodotto e lo abbiamo finito. Ovviamente in questo periodo i deodoranti vanno per la maggiore e quindi ne abbiamo finiti un po'. Questo della DAV Go Fresh, che è, se ci vedo, perché qua ho chiuso tutte le finestre, al melograno, al limone e alla verbena. Eh, vabbè, sono sempre buonissimi, qui non ci stiamo tanto tempo perché questi sono buoni. Come mi sono trovata molto bene anche con i Nivea Soft Touch, ottimo prodotto al pari della DAV. Sempre come i deodoranti, finito anche questo, 0% di alluminio, è freschissimo questo al cetriolo. È veramente buono, ha un profumo molto 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 fresco, molto piacevole. Potete anche non utilizzare un profumo che con questi caldi, con questo caldo, è abbastanza difficoltoso indossare, almeno per me, quindi utilizzo acque profumate o deodoranti profumati. Questo mi è piaciuto molto, molto fresco e ve lo consiglio. Poi, ho finito questo intimo protettivo di Conad, della linea Essenzia. Mi piace, con estratto di glicerina, mangostana, che non so che cosa sia, e olio essenziale di timo. Molto delicato, ma anche molto fresco, un profumo molto fresco, delicato, nelle parti intime, buono. Tutta questa linea mi sta piacendo tantissimo, sto provando pian pianino tanti prodotti e devo dire che ne vale la pena. Finita questa schiuma mousse doccia con olio di rosa della DAV, sono davvero molto buone, peccato che costino un pochino. Queste ne avevo comprate davvero tantissime al Penny Market, che erano scontate a 1,99 euro. Ne avevo forse comprate 10, quindi le stiamo finendo, perché le stiamo finendo come... Mi sta cadendo tutto. Come abbiamo finito tutti gli sciampi, perché qui ho docce, sciampi e finiamo tutto. Ho finito questo contenitore di coton fioc, che è in cartone con sopra la plastica, della cotoneve, e questo poi lo riutilizzerò per metterci gli altri coton fioc. Ho finito anche, ma questo nel mese di maggio, perché mi era venuto un attacco di mal di schiena, questi cerotti riscaldanti per dolori articolari, muscolari, mestruali, con ingredienti vegetali senza farmaci. Io li trovo, nel periodo chiaramente non così caldo, molto buoni perché riscaldano la parte infiammata e mi aiutano a togliere il dolore. Questi li trovo sia da Penny Market, sia all'Eurospin, insomma in tutti i vari discount, e sono davvero molto molto buoni. Il capitano ha finito il suo DAV Original, lui utilizza solo ed esclusivamente questo, e quindi vuol dire che è buono, perché usa sempre e solo questo. Finita quest'acqua micellare che avevo fatto vedere in un ti ho amato, ti ho provato, della Ziaia, è buonissima, 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 delicata, profumata, non irrita, rinfresca. Un'acqua micellare buona, ottima, ad un prezzo imbattibile, e l'avevo comprata, mi pare, su un notino. Poi, finito questo, non c'ho più neanche il contenitore, penso, non so dove me l'abbiano messo, perché qua poi, quando riempiono lo scatolone, questo, come si chiama? Ce la possiamo fare, questo, questo, dentifricio, si chiama dentifricio, vedi? Quindi, dentifricio della Zeta Complete, freschezza, delicata, e effettivamente è fresco, a me non piacciono i dentifrici che ti lasciano la bocca, praticamente non riesci neanche a respirare dal sapore della menta, o comunque dal sapore dell'identifricio. Questo è molto delicato, lava bene, e mi è piaciuto. Ho finito quel siero favoloso che vi dicevo, che avevo comprato della Pulp Pulp de Vee, alla frutta agli agrumi, e ne mancava poco, e quindi l'ho finito. Un siero davvero molto buono, illuminante, che profuma di polpa fresca di agrumi, buonissimo. Anche qui, se dovessi ritrovarlo, una volta che ho finito tutte le mie scorte, sicuramente lo ricomprerei, perché ha fatto il suo lavoro. I profumi e i trucchi vi li faccio vedere in un'altra volta, perché qui fa troppo caldo e non resisto. Qui abbiamo un altro sacchettino di dischetti cotoneve, anche questi trovati in sconto al Tigotà, sono sempre buoni. Io quello che ricerco in un dischetto è la grandezza, perché io li compro grandi, e che siano belli, consistenti, che non si rovinino, che non si sfaldano, che non perdano i pelucchi. E questi, è caduto anche quello. E questi sono effettivamente così. Ho finito anche il tonico alla centella di Skin 1004, che mi avevano mandato ai tempi Stailvana, quando avevo collaborato con loro. Un tonico che mi è piaciuto davvero tantissimo, un tonico leggermente sfogliante, con centella del Madagascar, quindi anche adatto ad una pelle delicata, sensibile, come la mia, che ha della cuperose, un tonico che sa il fatto suo. Molto, molto buono. Io adesso ne ho veramente tantissimi in scorta, e quindi al momento non ricompro nulla, ma lo ricomprerei. Come mi è piaciuta questa essence di Otti, al Green Tea, una essence in gel. Anche questa ve ne avevo parlato, se non sbaglio, in un video dei Ti ho provato e Ti ho amato. Molto rinfrescante, che aiuta la pelle a togliere gli arrossamenti, è adatto alle pelli sensibili, è una essence molto molto buona in gel. E anche questa comprata su Stailvana, comprata da me. Poi, 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 finito questo giganterrimo bagnoschiuma Beyoncé allo zenzero, il profumo dello zenzero si sente parecchio, è un bagnoschiuma molto profumato, molto buono, che, quando poi uscite dalla doccia, il bagno rimane impregnato da questo profumo così fresco, molto 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 piacevole. È l'unico che ho finito. No, ma ci l'abbiamo, perché facciamo due o tre, però ho dentro davvero tanti bagnoschiuma che sto provando. Penso di averne almeno cinque nella doccia, quindi nel prossimo video sicuramente saranno finiti. Questa ve la faccio vedere nei profumi che ho finito, i trucchi anche. Ho fatto una sola maschera, perché sto cercando di finire le maschere che ho in crema, ne ho due in vasetto, una alla vitamina C, che devono assolutamente essere finite, perché sono aperte da troppo tempo, ma avendo tanti impegni, soprattutto alla sera, io rientro e non ho il tempo di farmi delle maschere, perché mi faccio la mia skin care, ma se poi devo farmi anche la maschera che dura 20 minuti, praticamente la mattina dopo mi ritroverei addormentata con la maschera sulla faccia. Ho fatto una sera, soltanto che ero a casa, perché davvero, questo è stato un periodo molto molto intenso, questa maschera della Sien che avevo comprato ha l'acido ialuronico e Sakura. Buona, profumata, ricca di siero. L'unica cosa è che secondo me sono un pochino piccole come forma per la faccia. Ecco, devo star lì un attimo ad aggiustarle, un po' mi cade, un po' mi torna su, però molto molto buona. Lasciava la pelle davvero idratata, morbida e molto profumata, quindi sono rimasta soddisfatta. Altro sacchetto di dischetti ovali struccanti di Avilea, anche questi mi piacciono sempre tanto. Poi, vediamo che cosa abbiamo finito. Altra saponetta alla rosa da maschera, di questa volta una marca che ho voluto provare, non l'avevo mai sentita, ho provato di questa un'acqua profumata che mi piace tantissimo per il corpo, è di Kesir, e questo è un sapone aromatico, anche questo molto molto buono. Con una bella schiuma, una bella crema, finita questa crema viso, crema gel viso alla malva di Biofficina Toscana, questa mi è piaciuta tantissimo, davvero davvero tantissimo. A parte l'erogazione, in questo modo che non ricordo più come si chiama in questo momento, anche se ho sempre utilizzato questi placoni, anche quando facevo Cosmesi Handmade, ma si riesce a utilizzare praticamente tutto il prodotto che c'è all'interno. Una crema molto delicata, alla malva, quindi disinfiammante, disarrossante, idratante sì, ma non troppo, perfetta come base sotto il trucco, mi è piaciuta davvero davvero tantissimo. Molto 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 buona, la ricomprerei assolutamente sì. Finito questo burro truccante, ciao, burro struccante zero della Vanilla, a me è piaciuto, penso questo sia, diciamo, il prodotto, Ce ne sono 4-5 tipi di questo burro struccante, questo deve essere il classico, quello più famoso, a me questo è piaciuto tantissimo, ho sentito invece alcuni pareri che degli altri, quello giallo, quello verde, quello azzurro, qualcuno non si era trovato molto bene. Io con questo mi sono trovata benissimo, un burro che mi è durato tantissimo, davvero davvero tantissimo, ne bastava pochissimo, faceva una bella schiuma, non rimaneva unto dopo che, diciamo, il burro si trasforma in crema, puliva in profondità, delicato, un prodotto, secondo me, da ricomprare assolutamente. Adesso ne sto utilizzando uno che mi piace, ma non sono sicura che mi piaccia. Adesso, in questo momento, non lo sto utilizzando perché non mi sto toccando, e quindi faccio solo una detersione con acqua micellare e un detergente schiumogeno e basta, perché non posso chiedere di più alla mia pelle. Vediamo poi questi scrub, ne abbiamo fatti sia io che Lucia, questi penso li abbiamo presi da Action, questo è all'albicocca, questo al kiwi, ci sono all'interno dei semini che dovrebbero essere, diciamo, i semi del nocciolo tritati, sono molto molto buoni, scrabbano bene, non in maniera troppo aggressiva, sono molto profumati, profumano proprio di albicocca, proprio albicocca bella, matura, estiva, e di kiwi, che ha un profumo che può piacere, oppure no. E ne abbiamo finiti altri due, che questo è al Raspberry, che dovrebbe essere il lampone, e questo Star Fruit, che è il frutto quello a stella, non mi ricordo più come si chiama, comunque sono carambola, non sto dicendo una stupidata, vabbè, il caldo mi sta facendo, e sono questi, sono comunque tutta una linea di scrub, che trovate da Action, è un po' che non va da Action, dovrei passare. Poi, 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 ah, ho finito questa mist, che io utilizzavo esclusivamente alla sera, ed è una mist alla lavanda, dream mist, esatto, perché mi aiutava proprio a rilassarmi, è di Revolution, ho visto che Revolution ha fatto tanti articoli per la skincare, io al momento ho provato solo questo, ma sicuramente vorrei provare altro. A me è piaciuta tantissimo, e quindi sicuramente la ricomprerò, se la ritroverò. Buona, 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 il profumo di lavanda, dava proprio quell'effetto rilassante. Ecco qua, abbiamo un altro dentifricio, AZ Complete, freschezza intensa, e a me questo non è piaciuto tantissimo, perché mi lasciava la bocca congelata, non so come dire, cioè quell'effetto troppo freddo, che mi dà effettivamente un po' fastidio. i miei dentifrici preferiti sono quelli dell'erboristeria, antica erboristeria, quella alla menta piperita, e tutte queste cose qua, perché mi danno una freschezza che è delicata, e che poi posso parlare una volta che ho lavato i denti. Però abbiamo finito anche questo. Poi, cosa abbiamo finito? ho finito questa lacca in mini size, che vi avevo detto mi era piaciuta tantissimo, e sono andata a ricomprare la taglia grande, che costa parecchio, 12 euro per un flacone da 300 ml, però vi devo dire che è una lacca con tutti i santi crismi, cioè, quando laccate i capelli, per i miei che sono soprattutto lisci, e spaghetti leggeri, scusate, ma fa un caldo allucinante, belli tiene in posa, e nulla, è buona, e quindi l'ho ricomprata, in taglia grande. Ho finito, qui ce ne sono una metà, no, c'è tutto, questo che vi avevo detto, sempre in un, ti ho amato, ti ho provato e ti ho amato, mi era piaciuto tantissimo, questo scrub, questo gommage, corpo, body scrub, al, burro di karité. Penso abbia cambiato la confezione, il formato, però questo è stato davvero, buonissimo, tant'è che quando facevo lo scrub, io poi non mi andavo a mettere la crema corpo, perché questo faceva tutto lui, buono, 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 davvero molto, molto buono. Questo lo devo buttare, ma non è finito, è un balsamo labbra emolliente delle driadi, all'avena, ma ce l'ho aperto da troppo tempo, e adesso il profumo, è un profumo rancido, non è piacevole averlo sulle labbra, e quindi lo, lo cestino, lo butto, anche se è un prodotto ottimo, e forse ve l'avevo già detto, perché è tutto quello che ho usato tutto l'inverno, ma hanno un pao davvero molto corto, e quindi nulla. Poi, che cosa abbiamo ancora? Due contorni occhi, allora, ho finito questo della Delidea, che è leggermente colorato, e mi è piaciuto tantissimo, davvero tanto, perché è uniforme all'incarnato, non è pesante, è idratante, è un prodotto per me, favoloso, finito, e ne ho già forse un altro in scorta, adesso sto mettendo un contorni occhi, molto molto leggero, in siero, ma sicuramente questo è un prodotto, che mi piace utilizzare, soprattutto alla mattina, perché ha comunque, questo colore, che uniforma la palpebra, anche se io, fortunatamente, non ho le occhiaie, e anche il, appunto, la zona degli occhiai, e a volte, addirittura, se gli occhi sono riposati, non uso neanche il correttore, quindi, davvero, davvero, buono, 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 e ho finito un altro contorni occhi, che avevo in utilizzo, questo della Kiko, Green Me, della linea Green, anche questo, molto molto piacevole, rinfrescante, leggero, nulla da dire, buono, anche questo, ho finito, anche questo, shampoo, o questo è il balsamo, forse questo è il balsamo, perché lo shampoo, l'avevo finito un'altra volta, poi è scritto tutto in tedesco, non lo so, presumo sia il balsamo, della linea, della DM, che ha anche le maschere intensive, che ha l'impacco, e lo shampoo, io sono quelli che utilizzo, avendo i capelli decolorati, sul grigio, che a volte, poi chiaramente, tendono al giallo, perché dopo un po' che si è fatto il colore, si ingiallisce, e questo è un ottimo prodotto, che aiuta a mantenere, il capello grigio, quindi è un tonalizzante, come shampoo, e come balsamo, davvero, di tutto rispetto, buono, 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 poi, penso di aver finito, giusto, questo, esatto, ma io vi faccio vedere, anche le altre cose, che ho finito, che così, svuoto tutto, questa, questa era una essence, di Aruaru Wonder, che mi avevano mandato, come campioncino, allora, essendo così piccola, non è che ho potuto constatare, comunque, è una essence, per me è molto buona, abbastanza gelatinosa, rinfrescante, e questa me l'aveva mandata, quando ho fatto l'ultimo acquisto, Stylvana, ho provato, invece, questo campioncino, di crema rivitalizzante, corpo e mani, alla verbena, io l'ho comprato, l'ho comprato, l'ho utilizzato solo sul corpo, mi piace molto, mi piace tantissimo, il profumo di questa linea, e quindi, penso che potrei comprare, sia la crema, che anche il profumo, perché la verbena, è comunque una nota, che mi piace tantissimo, non abbiamo più fatto, nessun video, sui profumi, neanche con la Stefi, perché, siamo impegnate tutte e due, tantissimo quest'estate, ma davvero tanto, e, pensavamo quindi, di farvi, di farvi un video, magari ad agosto, dove riassumiamo, un po' tutti i profumi, che abbiamo utilizzato, acque profumate, profumi agrumatici, è una cosa molto easy, per ricominciare poi, la nostra rubrica, a settembre, poi, ho finito, questa, acqua profumata, per il corpo, che avevo comprato, dalla Stenom, se non ricordo male, sì, e mi è piaciuta tanto, perché, è un'acqua profumata, molto molto fresca, molto molto agrumata, della Chiotis, che è una linea, che hanno loro, e, l'avevo in uso, da un annetto e mezzo, due, e quindi, l'ho finita, come profumi, ho finito, questo, che mi piace tantissimo, alla verbena, come vi dicevo prima, è un profumo, del brand, Saphir, Sapir, Sapir, non so, quello che si trova, all'antigotà, e questa, è una delle mie profumazioni, preferite, adesso, ne ho in uso, uno da 100 ml, perché, c'era un'offerta, l'anno scorso, che, con un profumo, da 100 ml, ti regalavano, questo, che è da 30 ml, è un profumo, meraviglioso, fresco, vediamo, se c'è ancora qualcosa, mamma mia, mi mette in pace, con il mondo, vi regala, una freschezza, molto verde, che sa, di buccia di limone, che sa, di buccia di agrumi, non so, come dire, una sorta, di profumo, ristoratore, che vi fa, ritrovare, sotto un albero, dove c'è, un vento, fresco, estivo, che vi rinfresca, e voi state leggendo, un bel libro, questa, linea qua, mi piace tantissimo, e infatti, sto utilizzando, quello da 100 ml, che mi piace, un botto, e me lo spruzzo, in ogni dove, visto che sono 100 ml, non ho più nulla, sì, ho questo trucco, l'unico make up, che ho finito, questo, correttore, di bella oggi, che mi è piaciuto, tantissimo, l'ho proprio, raspato, da tutte le parti, ma non ne usciva, praticamente, più niente, e mi piace, perché, è la colorazione, giusta, per il mio incarnato, quando mi trucco, e quindi, questo, me lo tengo, forse, ne ho anche, ricomprato uno, ultimo profumino, che ho finito, è il profumino, che vi avevo fatto vedere, di, bottega verde, che era quello, alla, fior di menta, di menta, non è che abbia, proprio tantissimo, qui non esce più niente, perché l'ho proprio, spremuto, ha, questo, diciamo, spruzzo, all'inizio, intenso, alla menta, ma poi, man mano, che si assesta, sulla, sulla pelle, ha, un profumo, fiorito, molto buono, molto, molto, leggero, peccato, che siano così piccoli, e peccato, che sulla mia pelle, durino, pochissimo, veramente, poco, 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 un'ora è a dir tanto, tutte e quattro le profumazioni, quindi, vabbè, ben venga anche, che siano così piccoli, perché, comunque, costavano 6 euro, 10 ml, quindi, insomma, non è neanche pochissimo, ebbene, cari amici, e care amiche, io ho finito, questo video, dei prodotti finiti, posso buttare, tutto nell'immondizia, differenziando, i vari prodotti, io vi saluto, penso, che, ci risentiremo, ad agosto, perché, questa è l'ultima settimana, che lavoro, poi avrò una settimana, in campeggio, con i ragazzi, dove andrò a fare la cuoca, tornerò, a fine luglio, e poi avrò, l'ultima settimana, di lavoro, sarà molto, molto intensa, dovrò chiudere, la contabilità, dovrò fatturare, dovrò fare, il versamento del live, tutte queste cose, e quindi, non so se riuscirò, a girare, un video, in quella settimana, lì, comunque, vediamo, poi io partirò, per le vacanze vere, dal 12 al 18 di agosto, e quindi, sicuramente, avremo modo, di, vederci, ancora, ascoltarci ancora, vi ringrazio, per la vostra presenza, vi ringrazio, per i vostri commenti, qualcuno, in privato, mi ha scritto, dopo aver visto, il video di maglia, e creatività, se io non avessi più, intenzione, di fare i video, di beauty, ma no, assolutamente, l'ho detto, però il mio canale, nasce proprio così, c'è scritto anche, nella descrizione, cioè un luogo, dove io racconto, le mie passioni, e per chi mi conosce, da tanti anni, sa che la Eli, ha delle passioni, che, sono, stagionali, annuali, quindi, tutto quello che c'è, ve lo racconto, e lo condivido con voi, sia la maglia, sia l'uncinetto, sia il beauty, sia i libri, la cucina, tutto quello che passa, qui nella mia casa, io lo condivido con voi, quindi, è, ed è sempre stato, un, un canale, vario, non monotematico, perché così sono io, quindi, state tranquilli, tutto quello che io, proverò, e vi vorrò raccontare, lo condividerò con voi, che sia di maglia, che sia di beauty, che sia di acquisti, che sia di nuovi prodotti, ecco, acquisti in questo momento, soprattutto per il beauty, mi sono andata una calmata, perché effettivamente, vorrei anche utilizzare, quello che ho già, insomma, bene, vi auguro una buona continuazione, di domenica, io non penso neanche, di uscire, oggi uscirò stasera, perché siamo a cena, da degli amici, ma con questo caldo, nisba, e, vi auguro una buona continuazione, di estate, se siete in vacanza, godetevela, se non siete in vacanza, cercate un modo, per godirvela, vi abbraccio, vi do appuntamento, ad un prossimo video, che probabilmente, sarà sicuramente, nel mese di agosto, e, altrimenti, ci vedremo, dopo le vacanze, insomma, vediamo un po' come, come vanno i vari impegni, e come vanno, le cose, che devo portare a termine, prima di andare in vacanza, vi abbraccio, tutti, con tanto affetto, vi ringrazio, perché mi seguite sempre, per tutti i commenti, che mi lasciate, e per le iscrizioni, che sono arrivate, inaspettatamente, anche in questo ultimo mese, che sono un po' assente, a presto, e buona domenica, ciao!